L'America è la sua industria della moda, dunque le sfilate, i luoghi della creatività, ma anche quelli della ferita dell'11 settembre. Parleremo di tutto questo oggi in una puntata interamente dedicata a New York, città capace sempre di stupire e di rinascere. Tutto questo dopo la copertina e la sigla. Grazie a tutti. Mettere da parte i sensi di colpa, eppure non è facile mentre sei a New York nella settimana in cui si celebra l'11 settembre con il cuore diviso in due come la città. Da una parte Uptown, il suo Lincoln Center, le sfilate di una moda americana che scorre via alla consueta velocità degli ultrasuoni, con il suo pubblico diviso equamente, anche qui, in un mix di glamour e di follia. Tacchi a spillo e abiti lunghi disinvoltamente a confronto con le toilette più impensabili e inarrivabili, anche con molta fantasia. Dall'altra, Downtown, Ground Zero, il pellegrinaggio a ciò che resta oggi delle torri gemelle. Un parco alla memoria e a ciò che di più tragico è stato, quei fiocchi mestamente legati alla cancellata di Trinity Church, il pellegrinaggio in jeans e scarpe da tennis, di chi vuole esserci e passare a celebrare, ricordare, portare a casa una foto, o meglio, dire una preghiera. Le due facce di una New York che in realtà ha sempre abituato chi la ama ad averne cento, mille e sempre tutte sbalorditive, proprio come lei, la grande mela, che non si ferma e che, nonostante tutto, va avanti, imperterrita e pronta a rinascere in ogni modo, anche attraverso la sua industria di moda. C'è un velo di tristezza e di malinconia nei giorni di una Fashion Week new yorkese che si appoggiano a quelli di un decennale che la città e con esse il mondo mai potrà dimenticare. Eppure c'è anche grande energia e vitalità. C'è la forza di un'industria di moda che ha nella sua natura quella di andare avanti, di guardare oltre, di spingere il piede sull'acceleratore, di non fermarsi mai, soprattutto in America, soprattutto ora. Così accade che la Fashion Week new yorkese dell'anno domini 2011, dieci anni dopo, non si sovrappunga ma quasi diventi un puntello, un gancio dove appendere meste nostalgie come un cappotto liso ma tanto amato che resta lì chiuso in un armadio perché i ricordi non si buttano, belli o brutti che siano. Ma intanto si va avanti con abiti nuovi, pronti a vestire una nuova vita, con uno sguardo a ciò che è stato ma anche a come sarà e quanto ci dicono coralmente tutti loro, magari sventolando la bandierina a stelle e strisce. È lo spirito dell'America, anche di quella della moda. Unica, nevrotica, cosmopolita, collettiva. The Spirit of America, lo spirito dell'America, si incarna perfettamente in New York, città del mito e del grande sogno, sia esso quello del business, del cinema, dell'arte o della moda. Città diversa da ogni altra, imperfetta ma indimenticabile per chi la scopre, sia esso un giorno, sia esso una settimana. New York è stata in queste ultime due settimane al centro del mondo nella ricorrenza del decennale dell'11 settembre. Una ricorrenza che si è inserita anche all'interno della settimana della moda new yorkese per la prossima estate. L'evento è riuscito in qualche modo a celebrare ancora una volta la grandezza dell'America e la sua rinascita anche attraverso il mondo del fashion system. Grande e a colori lo spirito dell'America per uno dei suoi più affermati interpreti di moda, Tommy Ilfiger, il papà del preppy style, ovvero quel modo di vestire ispirato ai college americani e alla buona educazione di una giacca da boyfriend, di una gonna al ginocchio, tra colori regimental e dettagli chic. Armonie che nella nuova sfilata per la prossima estate si tingono di un'anima pop, creativa e a tinte forti, tra abiti caftano patchwork e il nuovo camouflage che si sposa su giacche e pantaloni in una bella estensione di un repertorio stilistico che avanza di stagione in stagione. Preppy pop, does it mix? Lo stile preppy pop è un mix tra il colore, le stampe e il mio amore per l'uomo, Basquiat e Keith Haring. Uno sguardo alla bella atmosfera dell'Europa anni venti, ai luoghi rievocativi di fascino e di vera eleganza come la spiaggia di Deauville, a signore che hanno tratteggiato la riga dritta dell'eleganza come Coco Chanel. Per il suo debutto in passarella, Tori Birch, giovane e bionda signora americana, un vero fenomeno nel mondo del fashion system, capace di imporsi velocemente con i suoi abiti che piacciono sia alle ladies dell'Upper East Side come alle hit girl di Dunntown, punta felicemente su giochi di righe per i bei capi in maglia, su decori di rafia e di cristallo, su abiti a stampa che scivolano intorno alla silhouette, sui passi e sul pensiero del grande Gatsby, in una chiave riuscita di lettura di uno stile capace di esprimere charm e femminilità, tra modernità e un sottile languore di dolce nostalgia. L'America deve guardare avanti con positività, anche nel mercato della moda. La mia collezione estiva guarda allo stile di The Viglie degli anni venti, unendo insieme sport e glamour. Spostiamoci ora nel backstage di Diane von Fustenberg. È l'11 settembre e non serve molto per capire che il cuore e i pensieri di tutti siano divisi a metà. La moda da un lato, Ground Zero, dall'altra. E quella bandiera esibita dalla stilista con orgoglio e tenerezza è lì a ricordarcelo. Oggi devo dire che mi sento molto americana, anche se sono americana solo da 5 anni. Però bisogna andare avanti. Infatti è anche per questo che ho chiamato la mia sfilata Beginnings. È tutto per la speranza, il potere della luce, il potere del colore e la vita. Nel backstage intercettiamo anche Oscar de la Renta, un monumento della moda americana, un grande amico di Diane. L'America è un paese straordinario. è come il phoenix. Quindi devi rinforzare dai tuoi asci. Al suono di Feeling Good si alza il sipario e il pubblico davvero comincia a sentirsi meglio. Insieme al suo direttore creativo Ivan Maspeler, Lady Diane compie un piccolo miracolo di stile, di ottimismo, con i suoi abiti a stampa colorata, le silhouette drappeggiate, il tocco ladylike da giovane ed elegante signora che piace all'America e al mondo. Uno sguardo all'Africa come ispirazione leggera da accarezzare per poi volare via su memoria degli anni Sessanta e su una collezione capace di fondere l'etnico, la stampa e i colori più accesi con il senso di un'eleganza urbana e molto contemporanea. Una bella sfilata con altrettanto bella sorpresa. Intercettiamo in prima fila Valentino con Giancarlo Giammetti, reduci da un premio internazionale consegnato solo pochi giorni prima e festeggiato poi nel grande magazzino Super Deluxe Barney sulle note di My Way in uno specialissimo karaoke che trasforma il nostro maestro in una rock star. Ho avuto, sì, quattro giorni fa, cinque giorni fa il premio l'FIT che è un premio straordinario, Anna Wintour che me l'ha dato, ho avuto delle ovazioni straordinarie e Carragha mi ha mandato un messaggio, è stato molto molto bello. Gli italiani vanno sempre forte, lo dimostra anche Missoni, che realizza una collezione per la catena di negozi Target, successo planetario al punto che il magazzino chiude la sera stessa per tutto esaurito. E tutto esaurito lo fa anche la sfilata di Mark Jacobs, uno dei beniamini della grande mela, autore di una collezione capace di coniugare modernismo e tradizione tra abiti in plastica specchiata, frange e trasparenze iperrealiste, in una sfilata che pare proprio un musical. Moda che è uno spettacolo anche da Tom Brown, seconda collezione donna per il designer che mette in scena, quasi liberandole da gabbie, le sue creazioni esagerate nei volumi e nelle citazioni anni venti, tra colli giganteggianti e golle a ruota, in un mix di maschile e femminile che a Brown riesce bene e sempre ben accompagnato da uno scenografico stupore. Stampe floreali accanto a quelle africane made in Kenya, taglia laser e decorazioni metalliche, femminilità e grinta. Industria della moda e sostegno sociale. Per Idan, marchio fondato nel 2005 da Eli Yuson e da suo marito Bono Vox e oggi partecipato al 49% dal gruppo LVMash, lo stile deve avere sostanza. E bello dimostra la nuova collezione, per la quale si muove una nutrita pattuglia di amici famosi per vedere abiti realizzati dalle Crochet Sister, Suore del Kenya, note per i loro lavori a maglia, con materie prime provenienti da Nairobi e ancora capi giovani attuali al centro di un business che, crescendo, aiuta anche a far crescere e a sostenere il lavoro in Africa. Ciò in cui noi crediamo è creare uno scambio commerciale con l'Africa, liberando dalla povertà la popolazione. La collezione è realizzata con materie prime provenienti da Nairobi per far crescere e sostenere il lavoro in Africa. Personaggi della moda e dello spettacolo, nomi come Bono, Naomi Campbell che avete appena visto o anonimi turisti giunti da ogni parte del mondo. Tutti, ma proprio tutti, coloro che passano per New York non dimenticano oggi di fare un salto al Meatpacking District, il vecchio quartiere e magazzino sull'Hudson, divenuto oggi, dopo un importante progetto di riqualificazione urbana, un luogo tra i più interessanti in città in quanto a arte, moda, creatività. La prima a subirne il fascino romantico e della Brè è stata Diane von Fustenberg, signora della moda americana, regina degli chemisier e di quegli abitini dall'aria così perbene e al tempo stesso così perfetta a contrasto con il Meatpacking District. Così nel 1999 la stilista belga ha deciso il suo quartier generale doveva essere proprio qui, in questo angolo di Manhattan, romantico e autentico, così diverso dalle roccaforti della borghesia di Park Avenue. Un quartiere Meatpacking frequentato solo da macellai di giorno e da tre vestiti di notte che esercitava però una potente attrazione sulla stilista, la quale, con buon intuito, aveva fiutato che un giorno non lontano proprio quel quartiere sarebbe davvero diventato più che mai di moda. Ma mi piace perché fa molto villaggio, cioè non c'è tutto questo rumore e poi io cercavo una casa perché volevo fare una casa dove avevo il showroom, i uffici, eccetera, e ho trovato questa casa qua. Poi mi piace, c'è il mare, il fiume, insomma uno non si sente proprio... Sono bastati tre anni così per trasformare quello che era stato costruito in un secolo, miracoli della moda, capace di sovvertire le regole e di cambiare le carte, giocando con le destinazioni d'uso. Mattatoi e stabilimenti industriali per riscatolare la carne, trasformati in boutique, loft e locali alla moda, occupati da stilisti e designers, tutti complici della trasformazione della zona. Oggi una delle più vibranti, divertenti e, consentitecelo, trendy della città. Sulla pavimentazione della strada, cubetti di porfido che ricordano i sanpietrini di romana memoria sono arrivati in ordine sparso da tutto il mondo. Da Alexander McQueen, da Carlos Miele, da La Perla, Stella McCartney, solo per restare nel giro della moda. E se il designer e il suo vessillo portabandiera nell'hotel Maritime, che con le sue finestre a oblò è considerato una vera istituzione nell'architettura contemporanea new yorkese, l'appuntamento per il branch più chic passa dritto dritto attraverso due indirizzi. Pastis, brasserie di stampo francese, frequentatissima da turisti e new yorkesi dell'upper class e il rinomatissimo Spice Market, oggi uno dei ristoranti più in voga, non solo nel quartiere, ma in tutta la grande mela. Tra i frequentatori più assidui dello Spice Market e della zona figurano la fotografa Annie Leibovitz e l'artista e regista Giulia Schnabel, il direttore di Vanity Fair, Graydon Carter, e naturalmente non poteva mancare lei, sarà Jessica Parker, da sola o in compagnia di tutta Sex and the City. E ritorniamo sulle passerelle new yorkesi del Lincoln Center, il quartiere generale delle sfilate in città o anche nelle altre zone più interessanti di New York dove a sfilare con grande successo ci sono anche loro un drappello di stilisti italiani ed europei con il cuore ma anche il business a New York. E' stato il primo tra gli stilisti europei ad aprire la via dell'America dove arrivò ben 15 anni fa con il suo carico di creatività, colore e fantasia di una moda ispirata all'arte grafica. Un affetto ricambiato, quello tra gusto Barcelona e New York, considerata una vera metropoli globale, una sorta di finestra sul mondo dal marchio catalano e dal suo propulsore, custodal Mau. Con il suo passo spedito, lo stilista spagnolo riceve regolarmente un'ovazione a fine sfilata. Le tridimensionalità arrivano dalla maniera di fare la stampa con un computer che dona questa tridimensionalità e anche con la superposizione del materiale riusciamo il rilievo. Dalla Spagna alla Francia, seguendo il filo di un picchè di cotone che ha fatto dell'Apolo con il marchio del coccodrillo la bandiera del popolo Lacoste. Una comunità mondiale, pronta oggi anche a ritrovarsi sulla quinta strada all'indirizzo del nuovo negozio aperto tra i più grandi del mondo. Una bella novità che si innesta su quella del cambio alla direzione creativa del brand. Uscito Christophe Lamer, oggi alla guida di Hermès, entra Felipe Oliveira Baptista, 36enne, stilista portoghese, molto amato sulle passarelle francesi dove da tre anni presenta la sua eponima linea. E il suo lavoro sui capi Lacoste salta immediatamente agli occhi grazie a quel nuovo senso di stile e di eleganza con cui Felipe riesce a declinare l'Apolo trasformandola anche in maxi abito, lavorando sulla pulizia delle linee e dei colori, asciugando le proporzioni. Lacoste è il brand francese sportivo per definizione. René Lacoste lo ha reso molto chic, visionario, creativo, anticipatore dei tempi. Oggi ho unito insieme tutte queste qualità con una nuova energia. Il senso della luce, che magari potrebbe essere anche quello della ragione, sembra quasi un omaggio all'America e alla sua rinascita, specchiata in quei pantaloni argento e capi silver dall'anima e-tech, la luminosa sfilata della collezione Diesel Black Gold, linea ammiraglia del gruppo di Renzo Rosso, linea disegnata dalla stilista greca Sofia Kokosalaki. Silhouette più morbide, capaci di regalare libertà di movimento, un indovinato mix di maschile e femminile, quel jeans, capo di battaglia, campo di vittoria diesel in America e nel mondo, spalmato, metallizzato, specchiato, in pelle e argento. Riflessi e drappeggi, questi DNA della stilista, per gli abiti peplo scollati e chiusi da nodi e cinture in cuoio. Con Diesel Black Gold oggi trasformiamo il nostro DNA, che è molto più maschile per certi aspetti, lo trasformiamo con silhouette, tagli, vestibilità, e con tessuti più appropriati, lo rendiamo femminile. Nell'America del 2011, la moda guarda agli anni 20, una stagione perfetta anche per quelle terre eleganze, rievocata con sour fare e buon gusto tutto italiano, da Alberta Ferretti, nella sua nuova collezione Filosofi. Si sfila negli interni di una mansion, ovvero un'aristocratica palazzina in Upper East Side, che si apre a quei delicati abiti sottoveste e peso piuma, di cui la nostra stilista è maestra, con uno sguardo alla protagonista del Grande Gatsby, a quella Daisy e al suo indimenticabile senso dello stile, che qui prende la strada di una romantica, giovane, moderna femminilità. Anche se è una collezione giovane, il filosofo vuol comunicare questo, luminosità, positività, una ricerca anche di stile, di nuovo, perché anche le ragazze giovani, in modo particolare, di nuovo vogliono essere un po' speciali. America e Italia, un affetto ricambiato, almeno sul fronte moda, dove vanno fortissime le donne, tra queste Emi Smilovic, direttore creativo di Tibi, le chiavi di successo della nuova collezione, tanti pezzi, facili da indossare e da accostare tra di loro, eleganza sicura, tagli puliti, e una bella e attenta scelta di colori. Ho puntato su linee pulite, minimali, con molti colori che danno freschezza. Fiona Cibani, direttore creativo di Ports 1961, sceglie per la sua sfilata l'ambiente colto e rarefatto della Public Library di New York, uno spazio siderale dall'apparenza dilatata, che mette in luce le forme architettoniche dei capi dalle siluette essenziali e depurate. Un tocco di stile avvenieristico, per abiti arricchiti da pieghe, rielaborati con innovative stampe, giochi geometrici, frammenti di vetro e tessere di mosaico specchiato, un tocco fluo e il gioco, o meglio, la moda, è fatta. Un muro di rose e di fragranti orchidee è invece il romantico sfondo della presentazione di Juan Carlos Obando, stilista colombiano di stanza a Los Angeles, con un passato come direttore artistico di importanti e internazionali aziende. Convinto del potere dell'abito e della sua forza, capace di trasformare un giorno normale in qualcosa di straordinario, Mr. Obando snocciola, uno dietro l'altro, una serie di abiti dalla indiscutibile bellezza, grazie alle loro silhouette morbide, ai luminosi rasi di seta, a scolli, tagli e drappeggi, espressioni di un'evidente armonia stilistica. Amo l'idea di una moda provocante, ma allo stesso tempo facile da indossare, capi seducenti e belli, ma rilassati. Ora ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, subito dopo ci ritroviamo per continuare ancora a parlare di moda e di consumi e costumi americani, grazie anche a Maurizio Molinari, dal 2001 corrispondente della stampa a New York e oggi anche autore del libro edito da La Terza, Gli italiani di New York, subito dopo la pubblicità. Gli italiani di New York, Maurizio Molinari, gli italiani di New York, editori La Terza, due grandi favoriti, due grandi baffoni, quasi a ricordare l'inizio di quella che fu l'immigrazione del 1900. Sì, richiamarsi da dove tutto è iniziato, ma anche i baffi sono un segno della curiosità, a passeggiare ad Arthur Avenue, che è la nuova Little Italy del Bronx, basta andare lì e chiedere che cosa sono i baffi e ti dicono, i baffi curiosità, esplorare New York, bisogna partire da lì. L'America e New York, quindi, sono molto spesso monolitiche, lavorano molto sulla programmazione, sulla pianificazione, tutto deve essere previsto. Poi, quando arriva l'imprevisto, naturalmente come si fa? C'è sempre l'immigrato italiano che può essere un grande manager, un grande pretoghiere o un cameriere che risolve lì dove l'americano è in difficoltà. Ad Arthur Avenue è mezz'ora di macchina dal centro di Manhattan. Lì c'è una città italiana, cioè dove si parla italiano per strada. Bisogna andare il sabato. Il sabato è il giorno nel quale questo quartiere diventa esattamente come una piazza di qualsiasi città. Una New York parlando di donne che ha, ed è uno dei ritratti che tu fai, che ha in Ann Wintour uno dei suoi motori non solo di moda ma anche economici. Infatti ho visto che tu l'hai messa nella parte economica. Lei è uno dei protagonisti di questa città. è feroce, spietata, intelligente, innovativa, duttile sebbene non italiana e riesce a prevenire e a indovinare quello che avrà in un settore come fra i più difficili e competitivi come quello della moda. Ann Wintour è stata anche sempre molto vicino alle first lady, alle campagne presidenziali. Ricordiamo una sua copertina di vogo con Hillary Clinton ma subito dopo seguita da una copertina con Michelle Obama. La nuova Jacqueline? Perché Michelle viene paragonata a Jacqueline Kennedy? Perché lei fa parte del fior fior della borghesia afroamericana esattamente come Jacqueline era il fior fior della borghesia bianca del New England. Essere vicino a lei uno si accorge come veste sono capi ricercati sempre di altissima qualità e che tendono a esaltare la sua identità. Dovendo suggerire al pubblico americano e ai nostri connazionali una passeggiata appunto bella, creativa, vivificante, energetica nella città dove li mandiamo? Oggi che noi stiamo parlando ci sono due passeggiate da fare. Una è la High Line al Midpacking District perché è il giardino pensile sopraelevato e l'altra è Harlem. Harlem sta rinascendo grazie al lavoro fatto prima da Giuliani e poi da Bloomberg. Ci sono dei palazzi bellissimi dei giardini curati si può andare la sera fino a tardi alla Porlo Theater non ci sono problemi di sicurezza ci sono nuove villette messe a posto cioè la nuova Harlem lungo il Martin Luther King Boulevard davvero dimostra la forza innovativa costante di una città capace di sconfiggere ogni pregiudizio. nel tuo libro attraversi un po' tutti i campi dalla politica alla cultura alla moda indubbiamente campi che sono stati tutti però anche molto colpiti da questa dal September 11 l'11 settembre è stato un momento in cui ha travolto cambiato il mondo e cambiato anche l'economia e l'industria anche della moda. io credo che per avere un'idea esatto bisogna osservare il bilanciamento quotidiano fra due grandi strade fra la Fifth Avenue e Madison Avenue perché la Fifth Avenue è la grande strada dei negozi ma di massa mentre Madison Avenue sono le boutique per gli americani ricchi sono i due comportamenti della città ora cosa è avvenuto in questi dieci anni? si è impoverita la Madison Avenue mentre invece la Fifth Avenue fiorisce anche questa è la nuova di New York italiani di New York Maurizio Molinari editori La Terza e proprio come diceva Maurizio Molinari è proprio Madison Avenue con il suo Golden Mile la strada di New York teatro di uno shopping di lusso dedicato ad alcuni dei più amati e internazionali stilisti e marchi born in USA ovvero nati negli Stati Uniti un abito sottoveste languido ed evanescente bello in quella tonalità di nudo la lunghezza ferma poco sotto il ginocchio un gioco di pieghe che regala seduzione al passo è Francisco Costa direttore creativo di Calvin Klein donna a mettere a segno uno dei due colpi magistrali nell'ultimo giorno di sfilate new yorkesi la collezione è un'anima molto femminile con creazioni dalle linee pulite leggere estive luminose per via dei bagliori che conferiscono un nuovo romanticismo la chiusura la chiusura invece è tutta per lui per colui che incarna più di chi altro nel mondo del fashion business il sogno americano Ralph Lauren l'uomo nato con poco e oggi a capo di un impero e Mr. Ralph accogliendo il suo pubblico molto wasp nel suo quartier generale poco lontano dal Hudson ancora una volta regala un vero spettacolo quello di un'eleganza lussuosa e sofisticata uno sguardo agli anni 30 e a Marlene Dietrich un altro alla sensualità di abiti dal taglio sbieco tra grandi colline piume di marabù sognanti e sofisticati da grandiva ampi pantaloni che paiono gonne per ricchezza di tessuto borse uniche ricamate con chilometriche frange decori di perline e cristalli per sete e rasi una cloche a decorare il capo la semplicità di un'acconciatura a coda di cavallo per i capelli rigorosamente biondi e alla fine quella profusione infinita di lunghi abiti in seta argente allucente siderale di accecante bellezza arricchiti da scogli a cuore e a tuffo o meglio un tuffo al cuore il miglior modo per salutare New York e augurarle good luck buona fortuna a una città capace sempre di rinascere nel segno di un futuro luminoso come questa moda nel segno di una luce di una luminosità che sembra voler aiutare a riaccendere New York dopo l'11 settembre anche attraverso la moda chiudiamo la nostra puntata americana grazie per essere stati con noi noi ci vediamo come sempre la prossima settimana dalla Galleria d'Arte il Ponte Contemporanea a tutti una buona settimana ciao grazie a tutti Ooooooo